Frate qua 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 sono in site Ok Eh Yana mi ha fatto Zio che ritardati zio cane ma si può Madonna mia che mira di merda Non rischiartelo Ma qua Tra l'altro fuori la Yana a sinistra Yana a sinistra le scale Si è attivato il mio allarme Sì esatto ok Ultimo toccante rimasto in vita Ma allora Che bello che è E' troppo forte Sapete che ho fatti 4 con gli ancient Quest'arma è una macchina da ancient Da